Benvenuti a Porcinesta, stiamo a bordo di un lagon 55 invitato per Catamarans Barcelona. Porcinesta è uno dei dei porti più grandi di spagna con più di 1.500 amarri. Mi nome è Ivan Gisbert e sono specialista tecnico di B.I.G. A bordo di questo lagon 55 abbiamo equipato con la ultima tecnologia di B.I.G. Incluendo i sistemi di pilota e strumenti Triton 2 e i equipi di multifunzione Zeus 3S. Con i navigatori e marineri di questo tipo di barco lo che più demandano è un pilota automattico fiable, un sistema di alta precisione e un sistema di sicurezza che den una fiabilità e sicurezza nel mare necessario come sono i radares e i plotters. A bordo di questi lagoons abbiamo i nuovi dispositivi C3S. Sono equipi super rapidi e di alto rendimento e otorgan una informazione precisa nel momento che si necessitano. A parte questi equipi sono equipi specialmente diseñati per veleros e per catamarani e come quali hanno funzioni specifiche per vela come la pantalla Sail Steer e la informazione di Lay Lines o anche molti tipi di strumenti che aiutano a tutti i navigatori a la sua perfecta navegazione a vela. Instaliamo la cartografia C-Map Reveal che incorpora una carta di alta resoluzione. In questo modo equipiamo un nuovo radar Halo 20 Plus che utilizza tecnologia Doppler e come tal ofreste una sicurezza aggiudita per il seguimento dei blanci e una informazione al instante di quello che abbiamo al reddore. Oggi prepariamo un Blue Lagoon e un Mimosa. Il Blue Lagoon è un coptero che nasce in Parisi nel anni 80 ed è un coptero che aveva prodotto, vodca e insumi di limone naturali. è chiaramente la parte del spinnaker a tutti a tutti disfrutate in pienso però al final è piacere sin dubbio il Flybridge perché è un luogo incredibile ti senti totalmente libero al air, conectato con gli elementi è una esperienza incredibile mi piacere Sardegna e il Carribe mi piacere Sardegna e il Carribe mi piacere Sardegna perché in Sardegna c'è molte cali e la Ibiza anche potrebbe funzionare molto bene iniziamo molto temprano a navigare per disfrutare del mar, del sol per arrivare in una cala per giocare del momento per giocare un po' con i bambini perché c'è molto spazio nel barco è incredibile e la verità è che è molto completo tutto quello che propone BNG per me è un' aiuto molto importante per navigare perché quasi potresti navigare solo nel barco poi c'è molte cose però il barco è molto ben fatto è dire che c'è molte cose elettrici e che ti permette quasi navigare solo e con BNG ti aiuta molto perché tutto è molto ergonomico il solarium senza dubbio magnifico incredibile buonissimo 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 per sentire sentire con il l'aria con i elementi sei al punto più alto del barco è dove puoi andare più leggi hai una vista incredibile buonissimo